I want it all, I want it all, I want it all, and I want it down, I want it all, I want it all Meno uno, si gioca, tra poco comincia la Serie A Enel per quanto riguarda il girone della Domus Bet Catania Beat Soccer Primo impegno contro la Mezzia Terme, una gara importante, partire bene è quasi d'obbligo per la formazione rossa-azzurra Di Fabrizio Belluso, cerca golli importanti, Fred, il brasiliano, perché vuole anche lui dare un contributo importante per questa squadra alla vigilia del campionato Certo, certo, è importante fare gollo anche per prendere la fiducia, ma come sempre lo dico, è importante la vittoria della squadra Poi è importante fare gollo per la fiducia, come aveva detto, ma cercamo di giocare bene, crescere e arrivare bene in finale Giusto? Non lo so se rabbia veramente la parola giusta, però sicuramente abbiamo cresciuto tanto con questi sconfinti Dobbiamo fare questo, una evoluzione della squadra e dimenticare tutto che è successo e pensare solamente a vincere Che così deve giocare Catania Fred che ha parlato anche dell'evoluzione del beat soccer in Italia, ma soprattutto anche della società rossa-azzurra del presidente Bosco Il livello dell'Italia è quello più forte, più organizzato secondo me, sono più organizzato anche che il campionato brasiliano Sono tanto organizzato quanto il campionato russo, quindi è un piacere enorme stare qui Questo penso che è un passo grandissimo che ha fatto il presidente, credo che è un sogno realizzato Quindi dobbiamo solamente cercare di giocare bene e fare il pubblico che vengono a piacere questo Adesso solo campo e gol, vuole partire nel migliore di modi la formazione di Belluso Adesso il doppio impegno in campionato per staccare subito il pass verso la prima posizione Grazie a tutti